Musica Propongo una cucina naturale consegnata direttamente a uffici, aziende e a clienti privati. Dai pranzi di lavoro alle cene, serviti direttamente ai clienti. Loro sono quelli di Italian Good Mood, che per consolidare il mercato hanno deciso di iscriversi alla vetrina virtuale di Comprapiacenza. Noi vogliamo avere più visibilità con i nostri clienti che sono piacentini e vogliamo avere una espansione nella nostra base dei clienti perché siamo nuovi, siamo da un anno che abbiamo aperto e abbiamo già rodato il nostro processo in cucina, il nostro laboratorio, abbiamo anche delle conoscenze dei nostri agricoltori e vogliamo in questo momento espanderci e farci conoscere di più ai piacentini. Partiti a fine gennaio 2020, dopo poche settimane, hanno dovuto fare i conti con la pandemia, le restrizioni e le chiusure che l'emergenza sanitaria ha imposto. E l'occasione che si è presentata è stata quella di iscrivere gratuitamente la loro attività su Comprapiacenza, la vetrina virtuale degli esercenti del territorio piacentino. Noi ci siamo concentrati nella consegna sia alle uffici che alle famiglie e con questo abbiamo avuto la possibilità di mantenerci funzionanti. Abbiamo riscontrato che i nostri clienti ci hanno seguito molto nella nostra proposta. Una proposta alla loro che si fonda sulla cucina a chilometri zero. Abbiamo avuto molta cura nel sceglierle i fornitori, i nostri agricoltori principalmente bio della provincia di Piacenza e ci teniamo molto alla qualità degli ingredienti e facciamo una minima elaborazione nel laboratorio per mantenere l'autenticità dei sapori della nostra terra. Comprapiacenza è una iniziativa nata dalla collaborazione tra Comune di Piacenza, Camera di Commercio, Confesercenti, Unione Commercianti e CNA e realizzata da Libertà e altri media per sostenere l'economia locale messa in difficoltà dalla pandemia. Comprapiacenza consente agli esercenti di presentare la propria attività, di inserire un catalogo prodotti corredato di descrizione, foto e prezzi. I clienti hanno così la possibilità di scorrere il catalogo, selezionare i prodotti e inviare all'esercente una proposta d'ordine per poi accordarsi su modalità di pagamento e di consegna. Il punto di forza di Comprapiacenza è quello di instaurare un canale diretto tra clienti e commercianti proprio per alimentare e sostenere quel rapporto di fiducia che gli e-commerce non permettono di instaurare e anche di fare progetti per il futuro. Potenziare la capacità produttiva che abbiamo in cucina per poter anche produrre per altri punti vendita di consegna proprio i nostri nelle città vicino al Piacentino.